Risplendi è il più grande strumento che la Monacea dell'Italia ha a disposizione. Dove noi mettiamo tutte le innovazioni e queste innovazioni servono a fare che cosa? A cambiare punto di vista. La qualità delle connessioni emotive ha influenze positive sugli esiti delle relazioni sociali. Quindi non conta solo o tanto quello che diciamo al cliente, ma come lo diciamo e come lo incarniamo e la capacità che abbiamo di capire fino in fondo che abbiamo davanti a noi. Trend, ne sentiamo parlare tantissimo. Sono un cambiamento. La parola tendenza vuol dire cambiamento. La tendenza è un fenomeno non riconosciuto dal singolo, dall'individuo, ma è un fenomeno di gruppo. Un lavoro che noi facciamo tutti i giorni è quello di immaginare, quello che sarà il risultato finale quando andiamo a proporre un qualcosa alla nostra cliente. Quell'aspetto empatico, quell'aspetto di connessione diventa fondamentale perché nella nostra testa, nel nostro immaginario potremmo avere una forma. Ed è chiaro che la dobbiamo poi riprodurre su quella persona che ha una sua anima, un suo concetto, un suo modo di concepire se stessa. A voi della mente umana interessa esattamente la disposizione al fatto che si possa cambiare. Nel senso che voi lavorate, ho sentito prima parlare di consulenza, al favorire il riconoscimento delle persone rispetto al fatto che rispetto a quello che sono, possono diventare.